Ed eccoci vicino al paesaggio di un altro grandissimo artista, un altro artista che il padre avrebbe voluto sicuramente in un impegno amministrativo piuttosto che avvocatizio, piuttosto che di legge e che per fortuna in epoche ovviamente in cui costava moltissimo come dire non sottostare ai desideri del genitore, ebbe il coraggio di intraprendere una sua carriera, una sua carriera che da autodidatta e che gli fruttò però parecchia fortuna perché se pensiamo che lui iniziò fin da giovane ad esporre al circolo degli artisti, alla promotrice delle belle arti e già si permise, ancora giovane e molto giovane, di costruire a Caluso una villa, beh questo la dice lunga sul suo successo presso la borghesia e presso i militari o comunque i funzionari di corte dello stato sabaudo dell'epoca. Nella sua villa di Caluso in cui ospitò tantissimo il suo amico Massimo D'Azzeglio, un altro grande paesaggista e sono due persone che hanno entrambe questa visione scenografica del paesaggio dovuta anche ai numerosi viaggi all'estero e quindi all'assimilazione delle tendenze tardoromantiche del periodo franco-inglese, della scuola francese-inglese tardoromantica per esempio, che avevano quindi questi paesaggi molto scenografici, ma se il D'Azzeglio in effetti rispecchiò questa visione, lui parliamo di Giuseppe Camino, intrapreso il suo percorso sempre più realistico, più credibile, difatti i paesaggi di Giuseppe Camino anche quando non sono fedeli, nel senso che non sono riprodotti en plein air, ma sono di fantasia, acquistano sempre una grande naturalezza. O invece qui stiamo parlando di un paesaggio ripreso dal vero, dal vivo, il lago di Candia. È importante questa definizione perché? Perché i paesaggi canavesani sono quelli maggiormente quotati perché hanno un maggiore sbocco presso gli appassionati di arte e i collezionisti. Pensate che i paesaggi canavesani di Camino vengono apprezzati e sono quotati con punte perfino di 25-30 mila euro cada uno per ovviamente le opere più grandi, ma anche quelle di media grandezza sono molto molto quotate. Allora andiamo a vedere subito Giuseppe Camino che ci propone questo lago di Candia che è un bellissimo, curatissimo, particolareggiato, olio su tela, guardate che meraviglia, la pecore e la pastorella che ammirano questo grande bacino con questa grande apertura della vallata della pianura canavesana al quale fanno sfondo l'arco delle montagne. 55 di altezza per 79,5, opera firmata in basso a sinistra, lo vediamo qui, nero su verde profondissimo, quindi poco intuibile, stima 15-20 mila euro a fronte di una base d'asta di soltanto 10 mila euro che trovate solo qui, da casa d'asta di Sant'Agostino. Allora abbiamo detto tutto, i suoi grandi paesaggi sono molto quotati quando c'è di mezzo l'aspetto canavesano che lui curava particolarmente, qui c'è il lago di Candia, siamo in pieno canavese e abbiamo una stima di base d'asta di soltanto 10 mila euro. Il tempo ovviamente fugge veloce di fronte a ognuno di questi capolavori, passiamo immediatamente al successivo.